Ma cosa fa... cosa fateli? Cosa fate? Vi state... vi state disegnando? Che state pensando di fare? Adesso perché vi guardate in quel modo? Che state... Ehi, un vento, aspettatemi, aspettatemi, vengo anch'io, aspettatemi, voglio venire anch'io con voi, aspettatemi, ma chi finisce? C'è da finire il film? Chi finisce? Ci manca ancora il finale, aspettatemi, aspettatemi, bisogna finire Ci vorrebbe un'idea, un'idea, un'idea per un finale, devo trovare... ah, il telefono, si, 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 posso telefonare in archivio Ecco Pronto? Pronto Franceschini? Franceschini, lei mi deve aiutare, deve trovarmi un finale, si, si, un finale qualunque, ma si, una cosa qualunque Ma in archivio ci saranno scaffali pieni di finali, me lo porti subito, subito Oh, al finale, si, un finale... ...danni e... ...fina...li... ...o c'entra... ...fina...li... ...heh, heh, heh... ...e, ai... ...ai... ...o il... ...oil... ...i... ...ai... Oh, 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 oh. Bebe? Bebe? Brutto! Cristo! Oh! 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 Finito. Tutto finito. E che vuoi fare più? Tutto finito ormai. Ecco. La ragazza è pronta. Dobbiamo eseguire l'uccello di fuoco di Stravinsky. Già fatto, già fatto. Allora ci vuole un finale. Fatto anche quello, fatto anche quello. Poi tornatene giù. Ma allora, allora siamo disoccupati. Disoccupati, disoccupati. Finito il prossimo film è disoccupati. Io per esempio ho già in mente un'idea, un'idea nuova. Noi potremmo, potremmo, potremmo fare una storia d'amore. Una storia d'amore? Sì, ma non la solita storia d'amore, gli uomini con le donne, così, tanti uomini, tante donne, capito? Una mucchiata. Ecco, no, 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 una solita cosa, no, una cosa diversa. Mi interessa la sproporzione, capito? Sette uomini e una donna. E costerà molto. No, assolutamente, perché noi li prendiamo piccoli, hai capito? Due, tre piccolini. E la donna invece, la donna invece la facciamo alpa. Hai capito? Una cosa eccezionale. I nani, che impressione. Attento, attento, attento a questa cosa. No, ma che impressione? Sette lavoratori, capito? Lavoratori, noi mettiamo anche il risvolto sociale, un lavoro pesante, che so. In miniera, ecco, perché no? In miniera. Io già me li vedo mentre vanno al lavoro, contenti, magari, magari cantano, che dici, eh? La 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 lì, la la. Il titolo l'hai già in mente, il titolo. Quello è facile, sì, che so, che so. La bella addormentata nel bosco. No, ma adesso non cominciamo, non cominciamo a dirlo in giro, perché scrivere un film non è da tutti, non vorrei che qualche, qualche soggettista da strafazzo mi copiasse l'idea. Se il giorno d'oggi non c'è da fidarsi, magari cambiano il titolo, mettono l'accento sul fatto del sesso e lo chiamano, lo chiamano, che so, Biancaneve e i sette nani. E noi, e noi siamo fregati. E noi, e noi siamo fregati.